Space Aviary è la perfetta attrezzatura convertibile in grado di soddisfare le modalità per l'allevamento conforme alle disposizioni della direttiva europea sul benessere delle galline ovaiole sia per le gabbie modificate, colonie arricchite che per i sistemi alternativi voliere è in grado di rispondere con puntualità alle esigenze dei nostri clienti Space Aviary prevede su ogni piano un sistema di alimentazione a mezzo catena piana accessibile da ambo i lati e due linee di abbeveratoi Space Aviary offre i nastri uova larghi 140 o 250 mm per la massima libertà di gestione nella raccolta uova Il tubo per l'essicazione della pollina può essere installato sotto il pedonale senza nessun incremento dell'ingombro delle attrezzature Space Aviary è opportunamente compartimentata sia longitudinalmente che trasversalmente per offrire il massimo benessere agli animali e dal personale addetto Space Aviary offre modelli da due e tre piani anche in configurazione multipiano con camminamenti intermedi Space Aviary è provvista di efficaci guardrails per la massima protezione delle attrezzature durante le operazioni di popolamento e depopolamento degli animali Space Aviary è illuminata con luci LED dimmerabili nei corridoi, sotto e dentro le colonie Space Aviary